Attenzione, allocianarsi dalla linea gialla, ferma a Firenze-Santa Maria-Rena, volumia centrale, Milano-Toreto. La pietra è stata in testa a Toreto. Per continuare l'accesso a Toreto, vediamo che tutti i posti non stai accendendo l'indicazione della pietra del posto del posto, con il scopo del trasferire, e la viscela che si è già così, ma lì. per la passata, è stata anche la chiamata della celeste del pubisolo S reported, la riallge a che sono statati con unichetto da P satu volente